Andiamo a vedere anche la classifica femminile per quanto riguarda il giro corto con la vittoria di Nadia Bedendi della Poppy BP Motion numero 67, 49esima assoluta nel giro classico davanti a Cristiana Pallucca della Briganti d'Abruzzo con il numero 68 e Maira Castiglione numero 202 Triono Racing Centrobici con il numero 53 e poi Angela D'Angelo della Castel Trosino Superbike. A proposito di Castel Trosino Superbike finalmente conosciamo Stella, sono anni che sentiamo dire da chi viene a fare le gare ti amo Stella, un bacio Stella e finalmente conosciamo Stella. Ecco Stella e lei insieme con una schiera di bimbi che arrivano da Castel Trosino sono lì a seguire la gara e a seguire il papà che tra poco passa e dice ancora ti amo Stella. Devo dire che il percorso è molto bello e i bikers sono davvero divertiti, nuovi sentieri che vengono realizzati, la cosa bella degli amici della Bikers Nocera è che ognuno trova un percorso da inserire. Lui è il protagonista di questa nostra giornata, una storia d'amore bella e felice. Lui corre e lei gli passa le borracce, però sembra che una borraccia inavvertitamente abbia preso sul viso la ragazza. Eccolo qua, eccolo qua papà Stella ti amo. Ebbene questo è il piacere della mountain bike. Ci sono storie che vi raccontiamo perché raccontarvi solamente quello che è la pedalata, chi vince, chi non arriva, è banale. Raccontarvi le storie di questo mondo del ciclismo, di una gara bella come questa, con un verde straordinario che racconta l'Umbria nel migliore dei modi, con i bikers di Nocera che si fanno in sette per poter organizzare una gara come questa, sono le cose più belle del ciclismo. E allora dicevo c'è questa storia, lei innamorata, lui innamorato, però qualcuno gli dice ma lascelo perché... ma insomma la storia ve la raccontiamo piano piano fino alla fine di questa nostra giornata. Lui è l'uomo dei tartufi, non si sa bene perché se li trova o se li ha o se li compra, ma lo dico, lo chiamano l'uomo dei tartufi. Intanto a chiusura si va per quello che è il giro classic, ci sono le due donne che si giocano la maglia per la categoria femminile e siamo oramai ad una decina di chilometri dalla chiusura di questa avventura. Vedete che sono rimasti in tre sul percorso, ci si inizia a staccare, il quarto lo vedete è dietro in fondo, non mi sembra che ci sia una grande differenza di tempo ma inizia a farsi chiara quello che sarà la classifica. Emiliano Domenici della Ciclotec con il numero 417 davanti, la seconda posizione per Leopoldo Rocchetti della Bike Therapy, terzo è Giacomo Sbrocca della Zero e Mezzo Racing e più staccato Davide Di Marco di una decina di secondi, non di più. Questi sono i quattro che si andranno a giocare la vittoria nella decima edizione della Gran Fondo delle sorgenti di Nocera con probabilmente la volata, non lo so, se qualche cosa cambierà negli ultimi quattro chilometri. Intanto siamo al rifornimento, il team testi cicli è davvero numeroso, è tornato numeroso e ci fa davvero un piacere. Com'è la vita dell'accompagnatrice del ciclista? Bella, molto interessante, specialmente quando ti tirano le borracce in faccia. Ma lei lo lascia? No, assolutamente no. Mai? Mai. È sicura? Sì, sì, sicura, sicura. E quindi? E quindi continueremo questa vita con una borraccia in faccia.